Località Isca, comune di Perito, agriturismo solare. Mi trovo qui in occasione della giornata fuoriporta degli ospiti della struttura Villa Franca, che si trova in località Cerreta. Abbiamo organizzato questo evento in collaborazione con quest'agriturismo solare e con la presenza della Troce Rossa, tutti i nostri os che ci accompagnano e assistono i nostri alloggiati, per una giornata fuoriporta. L'idea è venuta, se proprio la dobbiamo dire tutta, ad un'operatrice della struttura in collaborazione dell'assessore Marcelli del comune di Perito, consigliere del comune di Perito, che si sono adoperati per organizzare questa giornata, per avere i vari sponsor per le magliette, per l'ospitalità e si sono dati da fare anche nell'invitare le autorità comunali di appartenenza sia di Salento che di Omignano, perché noi sono due i comuni, quindi abbiamo anche le rappresentanze dei due comuni. La Croce Rossa, perché io nasco in Croce Rossa, quindi era doveroso avere anche la presenza della Croce Rossa. L'iniziativa, come abbiamo detto più volte, era allegrare i nostri ospiti, i nostri alloggiati, per rendere loro il soggiorno a Villa Franca il più piacevole possibile. Ovviamente con questo caldo non poteva che essere questa la location adatta, una piscina al fresco, una bella accoglienza, le belle persone che sono venute qui oggi a farci compagnia. L'iniziativa di oggi è veramente un'iniziativa lodevole, perché Villa Franca è innanzitutto una struttura gestita benissimo, personale eccellente, e niente da dire, ho visto queste persone veramente felici di stare qui ed è stata un'emozione anche per noi che abbiamo assistito a questa giornata diversa dal solito. Però c'è da dire che per il territorio è fondamentale questa struttura, così come tante altre. Per noi del Consiglio Comunale, della nuova giunta, è fondamentale sostenere queste strutture per fare in modo che crescano sempre di più, crescano bene e devono sentirsi sostenute soprattutto. Oggi diamo qualche ora diversa ai nostri ospiti, da un'idea di Angela, di Aiuto e tutti gli altri ragazzi, abbiamo pensato appunto di far trascorrere qualche ora diversa dal solito a tutti i nostri ospiti. Diciamo, avete subito accolto queste iniziative? Sì, sono lieta di ospitare queste persone, per donare a loro qualcosa di un'esperienza piacevole, divertente e vederli felici. Allora parliamo un attimo giusto della vostra struttura, si trova in località... Fa parte di Perito, è un agriturismo da 16 anni. Da 16 anni. Brevemente cosa offre a tutti gli stati? Oddio, gli offre la piscina prima di tutto, i prodotti del mio orto, il vino che coltiviamo noi, insomma prodotti genuini e naturali. Una cucina semplice ma naturale.